Partita intensa ma nessuna rete ieri pomeriggio al Gurrera tra l'Unitas Sciacca e la quotata Nissa. 1-0-0 che cambia e muove poco la classifica, con i Neroverdi ancora impetagati a tenere a debita distanza la pericolosa zona play-out. Solo due i punti di vantaggio dell'Unitas rispetto alla Parmonval, avversario diretto per evitare gli spareggi salvezza. Anche palermitani infatti hanno pareggiato per 1-1 contro il Mazzara e quindi tutto è rimasto invariato. Privi dei titolari Galluzzo e Coco, i Neroverdi di mister Salvatore Crivello hanno giocato un bel primo tempo colpendo una traversa con il difensore argentino Dagata e concludendo un paio di volte dalla distanza con il neoacquisto Messina, con Ido Iaga e con Sant'Angelo, ma senza troppa fortuna. Nella ripresa poche opportunità invece per entrambe le squadre, ma sono sempre stati seccensi a spingere alla ricerca del gol. Nel secondo tempo infatti la partita è stata più spigolosa e piena di interruzioni. Gli ospiti hanno abbadato soltanto alla fase difensiva, tentando raramente qualche sortita in contropiede. Una Nissa insomma piuttosto rinuncetaria. C'è il rammarico quindi in casa Unitas, dove si sperava nel bottino pieno. Ancora una volta buona la cornice di pubblico offerta dal Gurrera, con gli ultras che però invitano la società a muoversi concretamente sul mercato per rafforzare l'organico. Anche ieri, a causa delle numerose defezioni, infortuni e squalifiche, la panchina nero-verde era composta soprattutto da giovani. Dopo la quarta giornata di ritorno del campionato di eccellenza Gironea, in classifica continua a volare il Canicattì, che ha travolto per 3-0 il pericolante Castel Termini. Agrigentini che hanno 5 punti di vantaggio sul Don Carlo Misilmeri e addirittura 10 sull'Akragas, ieri bloccato sul pareggio casalingo per 1-1 dal coriaceo Dolce Onorio Marsala. La zona play-off è completata ad oggi dalla Profavara e dalla Nissa. Il prossimo turno, che si disputerà questo mercoledì, vedrà l'Unitas Isciacca giocare in trasferta a Marineo contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Per raggiungere la salvezza tranquilla servirà a cominciare a vincere qualche partita. Solo 5, infatti, le vittorie per i Seccensi dopo 19 giornate. I pareggi danno fiducia e muovono la classifica, ma non bastano a centrare l'obiettivo.